Chi sono le due finaliste dei play-off della Serie C? Lecco Foggia Il nome del capitano del Manchester United? Non ne ho idea Bruno Fernandes Non ne ho idea Chi è l'allenatore dell'Inter? Linsaghi Ma io probabilmente la prima che indovino sbaglio il rigore Sicuro Ditemi il nome di un giocatore della Juventus Chi ha vinto l'ultima liga? Barsa Chi è il numero 9 del Milan? Stato